ma buongiorno siamo nella casa del cedro buongiorno ospiti degli infiniti live in travel e insieme agli amici di valigia e sono sfocato come sempre caffè preparatorio prima di un'escursione in cima ai monti vogliamo parlare di questa splendida porta blu parliamo non parliamo destinazione corna 30 passi qua dietro c'è il guglielmo nell'aria c'è un piacevolissimo odore di vino vino bianco cortese del piemonte verso corna 30 passi il sentiero da seguire 229 abbiamo fonti discordanti alcune indicano un'ora e mezza alcune due ore alcune includono anche la discesa quindi lo scopriremo solo salendo però una giornata primaverile nonostante sia il 17 di gennaio pazzesco grazie a tutti Musica Se parole si fanno limitate, il fiato manca ma noi si continua In questo cartello c'è un interessantissimo bivio Prendendo il sentiero 205 si può continuare verso la croce di zone E poi si può continuare su verso il Guglielmo che è proprio lassù Tra l'altro se avete tempo e voglia qua c'è un altro video proprio del Guglielmo Musica Ci siamo quasi La croce è proprio qui È piccolina ancora per ora Però ci stiamo avvicinando Giornata fantastica Si vedono tutte le catene montuose Ci siamo Prima cima conquistata Duramente Musica pausa pranzo in quei della croce di la croce di presso una croce se il vento non è troppo crudele facciamo anche un piccolo volettino con il drone non è troppo crudele facciamo un piccolo volettino con il drone non è troppo crudele facciamo un piccolo volettino con il drone arrivati 30 passi 1248 SL 1,2,3 marketing è finita la pacchia le ginocchia ora ringraziano non ci fate molto gas ai miei movimenti molto inanimivi siamo pronti alle culate viva le culate non ci fate non ci fate non ci fate allora io ho 7 chilometri e 7 puntuali precisi e siamo di rientro al parcheggio lifeintravel.it amici di valigia.it alla prossima non è finita qui siamo alle piramidi degli egizi di zone insieme ai dinosauri gli arcosauri si può fare i dinosauri che hanno ripreso verona no 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 se non ci sia giusto i sassi eccole i sassi e agilla che poi si sono cementati e poi dopo tramite l'erosione dove rimane il sasso in cima alla piramide e resta la piramide perché sotto non arriva ad erodere poi una volta che cade il sasso c'è che crolla esatto e dopo essere riscesi come dei disperati adesso risaliamo sotto alle piramidi di zone eccoci anche dopo la seconda escursione della giornata verso le piramidi concludiamo un'altra discesa e salita bella impegnativa però straconsigliata ecco le piramide ancora una volta che bellessa che blessa siamo rientrati dalla casa del cedro e abbiamo terminato la nostra giornata di escursione ciao mi fate il video mentre faccio il video ecco una piramide da vicino praticamente è un decostito argilloso grazie a tutti che è un decostito